Ciao a tutti ragazzi, oggi vi spiegherò come scaricare e installare Call of Duty MW3. Gratis, è al 100% funzionante. Che aspettiamo? Partiamo subito. Prima di tutto, ci servirà un programma che si chiama U-Torrent. Se non ce lo avete vi lascio il link in descrizione e vi basterà cliccare su Download e vi partirà automaticamente l'installazione. Una volta scaricato U-Torrent andiamo nel secondo sito che vi metterò in descrizione e basterà cliccare su Avanti e si scaricherà automaticamente il gioco. Una volta completato il download su Torrent, ci servirà un altro programma che si chiama Demontools. Se non ce lo avete vi lascio il link in descrizione e una volta sul sito, basterà cliccare su Download e vi partirà automaticamente l'installazione. Adesso creiamo una cartella, dove andremo a depositare tutti i file del gioco. Aprendo il file Torrent, avremo due pisti. Per ora clicchiamo sul primo per inviare l'installazione. Mi raccomando non chiudete la cartella, perché ci servirà per dopo. A questo punto clicchiamo sulla cartella che abbiamo creato prima e clicchiamo su OK. Ci rivediamo quando chiedrà il secondo cd. Molto semplice, non preoccupatevi. Ritorniamo nella cartella in scrivania e facciamo doppio clic sul secondo cd. e clicchiamo su OK. Per continuare l'installazione, ci rivediamo a installazione completata. Adesso cracchiamo il gioco. Andiamo su Computer e nella periferica, dove avete il cd virtuale del gioco, e l'aprite. A questo punto copiato tutti i file dentro la cartella Crack. Nella cartella del gioco, è copiata e sostituite tutto. Infine inviate sul desktop IW5SB. Per concludere rinominiamo il file tanto per fare le cose bene. Vi lascio con una barzelletta squallida. Anche i pomodori sanno che non possono sfuggire al passato. Ah ah, pessima. Alla prossima zii.